Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. La comunità di Torre del Greco si prepara a vivere la festa dell'Immacolata, quest'anno in un clima inedito. Come tutti sappiamo, la pandemia ha fermato la tradizionale processione del carro trionfale per le vie cittadine. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City, il parroco Don Giosuè Lombardo illustra come si svolgeranno le celebrazioni, come si potrà venerare l'Immacolata. Abbiamo raccolto ai nostri microfoni anche i sentimenti dei fedeli di Torre del Greco. Ieri sera il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che limiterà lo spostamento nelle festività natalizie. Naturalmente facciamo il punto della situazione anche nei comuni della provincia di Napoli. Aumentano le guarigioni registrati anche due decessi ieri a Torre del Greco. In conclusione la cronaca con l'operazione dei carabinieri contro il clan attivo tra il centro storico di Napoli e Secondigliano. Sono scattati sei arresti. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Maria, stella della speranza. La comunità di Torre del Greco si prepara a vivere la festa dell'Immacolata quest'anno in un clima inedito per le restrizioni legate al Covid. Abbiamo proprio bisogno di questa virtù teologale della speranza perché la speranza riguarda il nostro rapporto con il Signore. E questo trono che noi abbiamo pensato e preparato con il progetto e l'esecuzione di Riccardo Lamberti si ispira a questa espressione che usa Papa Benedetto in una lettera che lui inviò a tutta la Chiesa sulla speranza. Spè salvi. La speranza ci salva. La Madonna ci aiuta a guardare in alto nel buio della vita però lei risplende, come dice poi anche la Messa, segno di consolazione e di sicura speranza. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City il parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, illustra il programma delle celebrazioni da sabato 5 a mercoledì 9 e spiega come venerare l'Immacolata rispettando le regole ed evitando assembramenti. Abbiamo dei giorni clou che non è solo l'8 dicembre ma il 6 essendo domenica, 7, 8 e ho pensato anche al giorno dopo l'Immacolata il 9 dicembre. Ecco, in questi giorni per partecipare alla Messa bisogna necessariamente prenotarsi. Per quale motivo? Perché in Basilica abbiamo 180 posti a sedere e ogni posto è segnato da un segnaposto di color verde. Ti puoi sedere qui, dice quel segnaposto. Per poter venerare l'Immacolata c'è un ingresso autonomo. Ci entra per la Messa, entra per la porta accanto alla Sagrestia. Guardando la Basilica sarebbe la porta a destra. Va bene? Ci vuole solo venerare l'Immacolata. Entra per la porta sinistra. Sarebbe la porta della navata della Cappella del Santissimo. C'è la possibilità di fermarsi qualche momento davanti al carro, davanti al trono quest'anno, senza fare assembramenti e poi uscire. E questo sarà fatto in maniera continuativa. Abbiamo sabato pomeriggio la Messa delle 17.30 su prenotazione. Nei giorni clou, previste messe ogni due ore su prenotazione, presso la Segreteria della Basilica. Domenica 6 su prenotazione, secondo l'orario festivo, 8.30, 10.30, 12.00. Al pomeriggio c'è anche una celebrazione alle 16 domenica su prenotazione e alle 17.30. Lunedì 7.00. Ci saranno tre celebrazioni al mattino, senza prenotazione. 7.30, 9.30, 11.00. Non mancheranno le celebrazioni per i portatori. Lunedì 7.00, dopo la Messa delle 13.00, seguirà l'atto di affidamento alla Madonna alle 14.00, ora della tradizionale girata del carro. Abbiamo pensato per il giorno 7.00 a due momenti per i portatori. Un primo momento, la celebrazione della Santa Messa alle ore 13.00. Per terminarla alle 14.00, quando c'era la tradizionale girata del carro, alle 14.00 al suono delle campane faremo l'atto di affidamento alla Madonna e la benedizione solenne, se ci dovessero essere altre prenotazioni, alle 16.00 facciamo la stessa celebrazione, a sera, alle 17.30 e alle 20.00. giorno 7.00, ininterrottamente, dalle 7.30 del mattino fino alle 21.30, 21.30, perché alle 22.00 bisogna stare a casa, fino alle 21.30 sarà possibile venerare l'Immacolata, evitando assembramenti anche fuori della Basilica. giorno 8.00, celebriamo le messe ogni due ore, a partire dalle 6.00 del mattino, quindi alle 6.00, alle 8.00, alle 10.00, alle 12.00, alle 14.00, alle 16.00, alle 18.00 e alle 20.00. Il 9.00 mattina celebriamo tre messe, 7.30, 9.30 e 11.00 e così al pomeriggio, alle 17.30 e alle 20.00. Resterà esposta solennemente così in Basilica, sino all'11 febbraio, quando è l'anniversario delle apparizioni della Madonna all'Urd. La speranza ci salva, sottolineato Don Giosuè. Quest'anno vivremo la festa in un clima di maggiore raccoglimento e sobrietà. La Madonna, in modo particolare quest'anno, vuole prenderci per mano come una mamma e portarci a Gesù, perché la nostra speranza non è un'idea, un'ideologia, un pio sentimento, o vicina, vicina all'ottimismo. No, la nostra speranza è una persona, è Gesù. La festa di quest'anno si pone in questa dimensione di maggiore raccoglimento, se volete, di maggiore sobrietà. Ecco, anche il mio appello, non moltiplichiamo i fiori. Come vedete, in Basilica i fiori non mancano, basta anche l'omaggio di un fiore, di una rosa alla Madonna, ma trasformiamo i fiori in viveri, in soccorso alle persone bisognose, quelli che stanno proprio in difficoltà. Quest'anno sarà un'immacolata insolita, il carro e la tradizionale processione non ci saranno, lei cosa ne pensa? Io penso che quest'anno stiamo andando incontro a tutte cose veramente sconcertanti, la messa non si potrà fare più a mezzanotte, il carro non esce, siamo in una situazione che fra poco ci diranno anche quando possiamo mangiare, quando possiamo andare nel bagno, cioè siamo in una situazione proprio incommentabile. Non possiamo fare altro che dire va bene, ma comunque c'è tanta tristezza nel cuore. È un simbolo molto importante, è un momento molto sentito per la città di Torre del Greco. Il carro dell'immacolata per Torre del Greco è un po' il simbolo di questa cittadina, insomma, è una tradizione, è una data che aspettiamo tutti, anche però quest'anno sembra che le cose non possano andare così e quindi non possiamo fare altro che dire di sì. Penso che questa decisione sia stata giusta? Non sono assolutamente d'accordo, quindi con tutto quello che ha fatto il governo io non sono d'accordo. Il caso quindi dell'immacolata, secondo lei si sarebbe potuta comunque svolgere una sorta di processione? Secondo me sì, con delle direttive giuste, chiaramente per evitare grossi assembramenti, ma almeno fare uscire il carro senza magari far, senza le persone dietro, senza la folla, però il carro poteva benissimo transitare per Torre del Greco. L'importante è che passano tutte queste epidemie e torniamo alla normalità. Comunque è una cosa molto triste che la Madonnina non esce. Siamo spendi dentro comunque, ci manca tanto tutto. Siamo tutta via, tutto in diretta, ma non è la stessa cosa. È brutto vedere la chiesa vuota, non c'è nessuno, non lo so, mi dispiace tanto. Siamo tutte rattristate per questo. È un momento molto atteso? Sì, sì, molto atteso, non è mai successo nella vita una cosa di questa, è proprio una cosa brutta. Ti sarebbe potuta svolgere ugualmente oppure è stata presa una decisione giusta? Ovviamente è stata presa una decisione giustissima, perché non si può. È una cosa troppo brutta che non è. È un momento molto sentito, soprattutto per Torre del Greco, perché rappresenta un po' il simbolo della vostra città. Rappresenta un po' tutto, perché noi aspettiamo proprio l'Immacolata, che ci sta una grande festa. Solo quella festa c'è rimasta, ora ci hanno tolto anche questa. Questa rappresenta l'Immacolata per il popolo di Torre del Greco? È tutto, sicuramente tutto, ma purtroppo la situazione del Covid è grave e bisogna aspettare un attimino. Questo è un giorno triste per Torre del Greco, perché Torre del Greco è stata sempre vicino alla Madonna, per noi la Madonna è la nostra mamma. Oggi la gente è triste, si vedono gli occhi, alcuni parlano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri, in tarda serata, il decreto legge sugli spostamenti, che conferma la stretta del Governo sulle festività. Intanto prosegue il lavoro sulla bozza del DPCM, con le misure che saranno in vigore dal 4 dicembre. In nottata, il testo è stato inviato ai Presidenti di Regione, perché facciano le loro valutazioni, in vista di un nuovo confronto con il Governo prima della firma. Natale e Capodanno blindati dentro i confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5, come per gli altri giorni. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni in necessità, ovvero per motivi di salute. Nelle prossime ore spetterà alle Regioni esprimere un giudizio sulle misure del Governo. Nella serata di ieri, prima Michele Emiliano, in un'intervista a TV, poi Giovanni Toti sui social, hanno criticato la scelta di chiudere i comuni. Non c'è buonsenso, ma non senso, attacca il Presidente Ligure. Se vostra mamma vive sola alla Gueia, ma voi abitate ad Alassio, scordatevi di trascorrere il pranzo di Natale con lei. Aumentano ancora le guarigioni a Torre del Greco. Sono 101 i cittadini che hanno ottenuto il tampone negativo nella giornata ieri, a fronte di nuovi 24 positivi, dati che, tuttavia, non lasciano spazio all'ottimismo, dal momento che, sempre ieri, due torresi ci hanno lasciato a causa del Covid. Uno dei due deceduti è Pasquale Polese, noto commerciante ai mobili di 66 anni. Il bilancio complessivo si riduce a 754 cittadini tuttora positivi, di cui 29 ricoverati con sintomi. Un segnale positivo arriva anche per Ercolano dal rapporto tra nuovi positivi e guariti. Infatti, ieri sono stati 22 positivi, tutti asintomatici e in quarantena domiciliare, a fronte di 75 guariti, su un totale di 192 tamponi processati. Sono 716 i cittadini ancora positivi. Stessa situazione anche per Portici, dove dal 27 al 30 novembre sono stati riscontrati, su ben 707 tamponi elaborati, solo 64 cittadini contagiati, a fronte di 206 guariti. I guariti superano di gran lunga i nuovi casi anche a Castellammare e Istabbia. 20 cittadini risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti in forma sintomatica. Tuttavia, sono stati solo 92 i tamponi processati, quindi il rapporto fra teste e contagiati resta alto. Sono invece 61 le persone dichiarate guarite. Nel corso della mattinata in provincia di Napoli, Benevento Eterni, militari del comando provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di sei indagati ritenuti responsabili di associazioni di tipo mafioso. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza degli indagati al clan Puccinelli, operante del rione Traiano, nell'area occidentale della città di Napoli, sotto la sfera di influenza del clan Liciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. Il quadro emerso dalle indagini ha evidenziato la coesistenza non armata sul territorio del rione Traiano di due clan che si spartiscono i proventi delle fiorenti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti ivi esistenti. Il clan Puccinelli è gemone nella parte alta ed il clan Cutolo, radicato nella zona della 44, nella parte bassa del rione Traiano. Il complesso probatorio acquisito ha permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alle dinamiche criminali che nel tempo hanno regolato le condotte del sodalizio camoristico dei Puccinelli, con l'attribuzione di specifici ruoli agli affiliati, nonché le modalità di gestione della Cassa Comune per l'acquisto di armi e mezzi di trasporto necessari alle attività illecite del clan e per il mantenimento dei familiari degli affiliati detenuti attraverso il pagamento delle retribuzioni. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo come sempre i nostri contatti, la mail redazione chiocciolatvcity.it oppure il numero di telefono 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.